Io sono l'ultimo arrivato e ho trovato un gruppo unito, determinato e abbiamo un obiettivo comune portare a casa il miglior risultato possibile. Il gruppo l'ho visto molto bene. Bello carico, unito e motivato, pronto, molto compatto e determinato, unito, sempre più decisi, con un unico scopo di vincere, cercare di vincere il nostro girone. C'è molta agitazione per affrontare la prima di campionato. Gli allenamenti di queste settimane sono stati molto intensi. Abbiamo fatto un carico di lavoro molto importante. Grazie per tutto il mister Manuel. Ma penso anche che l'abbiamo vissuta come una vera squadra, con grinta, tenacia e molta passione. La squadra di cancio è carica e ben motivata. Il gruppo è determinato a voler migliorare il piazzamento della scorsa stagione. La squadra di hockey è carica ed è pronta a dare tutto. Abbiamo avuto tantissime novità dal nuovo allenatore a nuovi giocatori. Siamo ancora lavorando molto per amalgamarsi di più. Quello che dobbiamo fare è cercarci e stare attenti uni agli altri. Per la partita di domenica sono molto emozionato. Ho anche una gran voglia di giocare perché dà una vita che aspetto questo momento. Io mi sento molto bene. Io mi sento molto molto bene. Sono molto carico. Direi che mi sento carico è banale. Sono banale. Sono pronto. Concentrato. E determinato come sempre. Pronto per dare il meglio. Mi sono allenato molto bene. Io personalmente. Ho una grande voglia di scendere in campo. Non vedo l'ora di entrare in campo. A distanza di due anni non vedo l'ora di tornare in campo. Insieme ai miei compagni in squadra. Questa è la mia prima partita di campionato con questa nuova squadra. Io spero di fare il mio esordio. Un po' agitato ma ho tanta voglia di fare in campo. In Serie A1. Abbiamo tutti voglia di portarci alla casa in questa partita. A tutti i nostri riposi. Vi aspetto domenica 6 novembre. Alla partita di calcio. Ore 10.30. La partita tra Macron Warrior, Sabioneta e Waltz Bareggio. Per la partita di hockey. Ore 15. Tra Macron Warrior, Sabioneta e Magic Torino. Al palazzetto dello sport di Sabioneta in via Santuario 28. Non mancate. Mi raccomando. Vi aspettiamo. Se non riuscite ad esserci fisicamente beh mi dispiace ma... Seguiteci in Violetta Streaming. Troverai link sui nostri canali. Facebook e YouTube. Seguiteci nelle nostre pagine social. Ci contiamo. Grazie. Noi cercheremo di vincere e di far divertire il nostro pubblico. We are... Warriors. 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 Forza Warriors. We are Warriors. Forza Warriors. E speriamo di vincere. E speriamo di vincere.